I poliziotti della squadra mobile di Catania, con il supporto dei colleghi della squadra mobile di Napoli, su disposizione della procura distrettuale Tnea, hanno eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza di custodia cautelare messa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Antonino Ferlito, Arturo De Rosa e Armando Strino, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono allo scorso 23 giugno. I tre uomini, secondo quanto emerso dalle indagini eseguite dalla sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile e squadra antirapina, avrebbero rubato farmaci oncologici di ingente valore. Il furto sarebbe stato commesso nelle ore serali da uomini di origini partenopee, i quali si erano avvalsi di un basista locale che gli offriva supporto logistico dal momento del loro arrivo nel Catanese fino al successivo allontanamento dalla città. Rintracciati nelle loro abitazioni, gli indagati sono stati condotti dai poliziotti della squadra mobile in carcere.